Virginia Bertone, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per accompagnarci, accompagnarci attraverso le sale della GAM, Galleria d'Arte Moderne Contemporanea di Turino, per la mostra Arte Italiana verso la Modernità. La mostra è denominata I Macchiaioli, aperta fino al 24 marzo prossimo, ma come sempre dico, fino alla noia, ogni volta che raccontiamo le mostre, non badiamo tanto alla data di chiusura, andiamo il prima possibile, perché poi succede che a volte ci si dica, e questo parlo di me, mi scuso, che peccato, avevo tutto il tempo, la mostra si è chiusa. Benvenuta Virginia Bertone, lei è curatrice insieme con Cristina Acidini di questa mostra dell'arte italiana verso la modernità, ed è importante questo sottotitolo che avete inserito nella mostra dei Macchiaioli, perché quest'arte, questo momento dell'arte, della pittura, è veramente un momento che ha aperto il passaggio alla modernità. Assolutamente, è proprio così, ed è un sottotitolo su cui abbiamo lavorato molto, perché volevamo alludere a quello che fu uno sforzo congiunto da parte non solo della straordinaria esperienza dei Macchiaioli, ma anche di altri artisti, quindi quel titolo da una parte ci indirizza verso quella che effettivamente fu un'aspirazione di tutti questi giovani artisti che rifiutavano la pittura accademica, rifiutavano tutta una serie di regole che erano alla base della formazione e dell'attività degli artisti e dall'altra appunto questa aspirazione a una ricerca che guardava al realismo, quindi che guardava alla Francia, guardava a quella che era in quel momento l'esperienza più interessante sotto il profilo, oggi diremmo, della pittura contemporanea, dell'arte contemporanea. Virginia Bertone, facciamo un passo indietro per entrare proprio in connessione, a respirare l'aria di quel tempo, perché raccontare di una corrente artistica, e spesse volte definire corrente artistica, penso, mi scusi non sono un esperto del settore, ma penso che sia sempre anche una forma d'errore. Per raccontare i macchiaioli, desideriamo capire il senso e il significato e della prospettiva che avevano i macchiaioli, chi erano? Erano artisti giovani, artisti che oggi potremmo dire senza dubbio artisti ribelli, quasi sempre attenti anche a quelle che erano le vicende politiche di quel momento, che erano ovviamente le vicende che chiedono l'impegno civile di molti di questi artisti che combattono per l'unificazione nazionale. Un movimento forse non è proprio corretto definirlo un movimento, visto che non ci fu un vero e proprio manifesto ad unirli, però ci fu, ed è quello che ha fatto forse anche da fortuna, dei macchiaioli uno straordinario critico e teorico che sarà Diego Martelli, che saprà tradurre molte di queste ricerche e le porterà in un confronto con Parigi in modo molto tempestivo e interessante. Questi artisti danno vita a un rinnovamento pittorico che coinvolge contemporaneamente sia i soggetti, perché rispetto appunto a quella che era la tradizione dei soggetti obbligati, dell'accademia, i soggetti solenni, quelle regole del disegno e della bella pittura che dovevano essere rispettate, che venivano tradizionalmente conservate, a quei valori si contrapponevano invece la ricerca di quello che loro chiamavano il naturale, il vero, l'onesto, che erano valori quindici, valori parte artistici e parte morali, ma che volevano sostanzialmente guardare anche proprio al mondo reale che li circondava, quindi il mondo delle campagne, il mondo degli umili e dall'altra parte l'idea geniale di portare questi soggetti nuovi con una tecnica nuova, una tecnica nuova che è quella di un colore steso per macchie, macchie forti e decise che vengono accostate a formare vividi impianti di chiaroscuro, che hanno però a seconda di chi li declinava effetti molto diversi, quella che è la realtà poi della pittura macchiaiola è tutta una serie di registri e di situazioni che la diversificano, certo in mostra si può ammirare una tavoletta meravigliosa che è quella di Giovanni Fattori, soldati francesi del 59, che è proprio una direi in questo senso una meravigliosa esemplificazione di quanto vi stavo raccontando con l'intensità di una luce abbagliante che fa in veste, colpisce un plotone di soldati di cui noi vediamo sostanzialmente per campiture la divisa blu e gli zaini che portano sulle spalle con una sintesi e direi una modernità di linguaggio che davvero stupisce ancora oggi. Virginia Bertone, vorrei ritornare per qualche istante a quello che diceva poco fa lei, definendo proprio i macchieioli che partivano da queste, definiti così perché partivano proprio per il colore steso a macchie per dare forma alle cose attraverso i contrasti di luce ed ombra. Ecco, il contrasto di luce ed ombra è veramente una sigla identificativa di questo perché oltre a essere una sigla è anche una grande difficoltà di espressione nel fare questo perché è semplice parole però mettere questo sulla tela rappresenta veramente quella forma estetica dei macchiaioli che è siglante ma in ogni modo rappresenta anche un senso anche di rappresentare, lei poco fa diceva dei soggetti militari, che erano quelli del primo periodo, poi ci sono quelli dei paesaggi, della gente, dei ritratti e qui il senso della luce e dell'ombra è veramente il leitmotiv che accompagna queste opere. Assolutamente e da questo punto di vista riprendo proprio anche un po' quello che è stato il lavoro di gruppo, l'equip che ha curato la mostra perché appunto con Cristina Cidini, Silvestra Bietoletti e Francesca Petrucci abbiamo veramente voluto ripensare quello che era un primo progetto alla luce della sua presentazione qui alla GAM di Torino e nel fare questo abbiamo selezionato opere che possono essere davvero esemplificative di quanto lei stava dicendo perché la mostra restringe il campo a quello che è stato il decennio mirabile dell'esperienza macchiaiola perché sono gli anni che vanno sostanzialmente dal 1859 al 1869-70. Per permettere di capire questa novità la mostra è introdotta da una sezione che invece è ancora legata a quelli che furono i maestri accademici perché con l'eccezione di Telemaco Signorini tutti gli altri frequentarono l'accademia e questo permette di vedere quello che fu lo stacco tra quell'esperienza di formazione, quello che fu un primo momento che ancora però si muove nell'ambito della cultura romantica per poi attraverso anche l'esperienza del caffè Michelangelo invece prendere coraggio e andare verso una ricerca che sarà una ricerca anche molto combattuta, il nome dei macchiaioli nasce come sappiamo come epiteto, come una forma di irrisione che loro poi assumono come tempo dopo, quasi 15 anni dopo faranno gli impressionisti. E' un momento però della pittura italiana che noi conosciamo ancora davvero troppo poco per darlo semplicemente come assodato, per questo dietro alla mostra c'è stata anche una volontà di ricerca e di rilettura perché lo consideriamo davvero un momento rivelatore di quelle che furono le ambizioni alte di quel momento, dell'Italia che si andava, del giovane regno d'Italia di quegli anni. Lei poco fa ha citato il movimento impressionista francese, vorrei insieme con lei Virginia Bertone capire quali erano da una parte i contrasti che sono evidenti, l'impressionismo che dà l'immagine mossa e vibrante nel cogliere tutti quanti questi effetti mentre dall'altra parte come abbiamo detto i macchiaioli invece avevano ben altri obiettivi, ma in che modo si viveva questa differenza tra queste due espressioni artistiche, da una parte i macchiaioli e dall'altra gli impressionisti? Sono proprio due momenti diversi. L'esperienza della macchia precede di 15 anni quasi quella prima straordinaria mostra a Parigi con gli impressionisti ed è interessante però considerare che entrambe le vicende hanno come base la mostra universale di Parigi del 1855 dove la pittura soprattutto di Corot, di Dobigny, di quella scuola di Barbizon che sarà proprio la prima affermazione di una nuova attenzione alla natura, di un interesse per una pittura che viene studiata en plein air, che viene non ancora realizzata en plein air come sarà poi per gli impressionisti, ma che ha quel modo di guardare con un spirito innovativo al paesaggio. Quella mostra viene visitata da un italiano, un reggiano che è un rifugiato politico, Antonio Fontanesi che è infatti uno delle figure che vengono inserite nel percorso della mostra perché sarà proprio Fontanesi che in quel 1855 a Parigi visita l'esposizione in compagnia dei pittori di Barbizon, lui è ospite di Constantro Aion ed è in contatto già da quel momento con Corot, i macchiaioli vedono e sanno riconoscere a distanza di tempo quando ne ammirano le opere a Torino nel 1861, lo vedono come l'unico italiano che aveva coscienza, consapevolezza delle novità internazionali che si andavano affermando, tenendo conto che in quel momento appunto Fontanesi risiedeva da molti anni a Ginevra perché appunto era un rifugiato politico essendo stato, avendo dovuto rifugiarsi a Lugano prima poi a Ginevra in seguito alla sconfitta della prima guerra di indipendenza nel 48. Però vorrei aggiungere questo, l'esperienza della pittura en plein air che è ciò che noi ammiriamo nella pittura impressionista, in realtà viene praticata tanto dai macchiaioli quanto dal fronte, in questo caso piemontese e liquore che noi gli accostiamo e Fontanesi che da Ginevra insegna a guardare proprio sulla scorta di quello che era la lezione francese un paesaggio di cui l'artista deve scoprire il motivo, ma che non è più il motivo aulico del paesaggio, la poussin che la tradizione accademica comunque mal sopportava perché il paesaggio non era neanche considerato un genere, era considerato lo sfondo per i grandi temi di storia, invece qui c'è proprio una novità nell'intendere il paesaggio e questa novità, questo amore per il paesaggio ha proprio origini nell'esperienza piemontese, di lì che arriva ai macchiaioli, però questo atteggiamento che noi tanto ammiriamo negli impressionisti in realtà tanto i macchiaioli quanto i piemontesi lo praticano, quello che sarà straordinario degli impressionisti, ma appunto siamo in anni più avanzati, è questa resa del momento, dell'impressione appunto che è ancora un'altra cosa rispetto alla pittura di macchia che noi vediamo, perché nella pittura di macchia c'è ancora un'attenzione meditatissima, penso soprattutto a Giovanni Fattori, a questo calibrare i colori e i contrasti, ma è una pittura di enorme fascino, d'altra parte noi abbiamo avuto la splendida mostra di Monet alcuni anni fa qui alla GAM, se noi confrontassimo alcuni esiti di Monet a questi anni sono esattamente sulla stessa scia, cioè è la scuola di Barbigion che interessa, è quel tipo di paesaggio, stanno facendo tutti ricerche in quel senso. Ricordiamo che la mostra di Macchiaioli, arte italiana verso la modernità alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, la GAM, è realizzata e organizzata dalla Fondazione di Torino Musei, GAM Torino e 24 Ore Cultura del gruppo 24 Ore ed è un sodalizio importante proprio per determinare questa attenzione fortemente artistica che Torino si sta giustamente riprendendo. insieme con Virginia Bertone adesso andiamo a estrarre alcune opere che lei con parole sue ce le farà vedere, quali sceglie? Allora, beh, mi permetto solo di dire che davvero è stata una collaborazione e speriamo che ovviamente continui, un'ottima collaborazione con 24 Ore Cultura proprio perché la possibilità di disegnare questo particolare profilo della mostra è stato non solo accolto ma anzi sostenuto, quindi un'ottima partnership in un quadro dove anche la collezione del museo viene valorizzata. Il pubblico che finisce il percorso in mostra può pensare di completarlo anche con alcune opere che sono esposte e mi permetto di aggiungere una cosa, forse questa è una di quelle mostre che vale anche la pena di ritornare a vedere perché è davvero difficile estrarre alcune opere, sono 77 dipinti tutti voluti, tutti scelti, tutti ambiti, quindi è davvero uno sforzo, però visto che lei mi invita a questo io le proporrei senz'altro oltre appunto a quello che potrebbe essere uno dei capolavori, un altro Giovanni Fattori, il ritratto della Cuginargia che appartiene alle collezioni di Palazzo Pitti a Firenze, è un dipinto che non si vede a Torino dal 1926 ed è un'opera meravigliosa perché Fattori lo dipinge proprio in un momento molto vicino a quei meravigliosi soldati del 59 e noi vediamo di nuovo un fondo neutro, questo muro che è chiaro nel suo aspetto di cui comunque riusciamo a cogliere la matericità e su cui si staglia questa figura descritta con la vivezza dello sguardo, l'affettuosità con cui ne delinea il volto, ma poi la capacità di sintesi, di rendere il tessuto con appunto un effetto che è una declinazione della pittura di macchia applicato però alla resa di un tessuto, quindi questa è un'opera veramente bella, importante che ci permette di cogliere ad esempio quest'altro aspetto e proprio lì accanto c'è un meraviglioso Raffaello Sernesi che è ai tetti al sole, che è proprio una piccola tavoletta, queste dimensioni minute della pittura di macchia, ma dove c'è un azzurro sfolgorante del cielo con i volumi compatti delle case che disegnano delle geometrie, sembra quasi di ritrovarci a un tipo di pittura che Morandi, su cui sicuramente potrebbe aver a lungo meditato, è la luce del sole che disegna questi volumi e che ci rende immediata la sensazione di questa atmosfera solare. E allora proprio a proposito di atmosfera, sempre nel 1861 un meraviglioso Fontanesi che si intitola Un Mattino e che viene dalle collezioni di Genova, in cui davvero l'atmosfera vibrante, l'idea di un cielo che contrariamente a quello che fanno i macchiaioli viene descritto nelle sue sfumature, con le nuvole che ci rendono quello che è una particolare sensazione di aria che vibra intorno a noi e che rende tutta quella visione di paesaggio in cui c'è una pastora al centro qualcosa che ha molto a che vedere con la pittura francese di quel momento. Accanto a queste due opere ci sono i dipinti che a Torino fecero scandalo nel 1861, il 1861 è una data chiave anche per la mostra e sono il Signorini, il quartiere degli israeliti a Venezia di cui presentiamo un bozzettino, quella è veramente la macchia nel suo stato più dirompente, sono veramente dei tocchi di colore, lì si varrebbe la pena di guardare un simile bozzetto per riflettere su quello che era, comunque qualcosa era nell'aria, la cattura della sensazione, dell'impressione effettivamente era qualcosa che legava tutto un fronte vasto di artisti e vicino sempre a completare questa magica parete, Vincenzo Cabianca il mattino con le monachine che passeggiano sullo sfondo con un orizzonte basso, il cielo, il mare di cui si intravede solo una striscia che ci riporta a un altro modo di intendere, sempre per contrasti di luce e ombra, la resa di un mattino, della luce mattinale sulla riviera Ligure. E quale differenza tra il quadro che lei ci ha raccontato poco fa, di quello di Antonio Fontanesi e quello invece di Vincenzo Cabianca, tutti e due dedicate al mattino con una luce profondamente diversa e questi quadri rappresentano veramente non solo un senso dell'arte ma anche un senso proprio fortemente, soprattutto quello di Fontanesi, fortemente psicologico perché in quel paesaggio con quei due alberi che sovrastano la pastora, con quegli animali c'è veramente un senso di forte domanda a meno per quanto mi riguarda essere davanti a quel quadro ed è molto bello quando il quadro ti pone, ti pone queste cose e quindi è forse questa la missione compiuta di quando si fa, di quando si crea un'opera d'arte. Virginia Bertone, prima di salutarci, lei si ricorda la prima volta che si è innamorata di un quadro, che ha avuto una folgorazione? Virginia Bertone, che bella domanda, beh sì, me lo ricordo, correva un anno che è meglio non dire per un anno veramente lontano, ero a Parigi perché avevo voluto affrontare da sola un viaggio, appunto avevo 16 anni e l'allora visita al Museo del Louvre fu veramente un momento impagabile, forse in quel momento ho veramente capito, grazie anche al fatto che avessi dei bravi professori a scuola e che la storia dell'arte fosse una materia e ancora considerata con attenzione la sensazione che mi sarebbe piaciuto in un qualche modo legare la vita professionale all'arte. La vita professionale all'arte, visto che abbiamo lei come ospite, Virginia Bertone, oggi raccontare l'arte come sempre è necessario, indispensabile, perché raccontare l'arte non significa solamente raccontare un quadro, ma raccontare un'epoca e delle culture che sono da conoscere. Oggi, come oggi, secondo lei, la voce femminile è presente nella storia dell'arte, perché se io penso alle trasmissioni televisive, guardando anche i vari palinsesti, l'arte normalmente viene raccontata da voci maschili. È vero, qui si tratta anche di un trend, non so, mi verrebbe da dire di mode, perché invece quando io studiavo storia dell'arte, la storia dell'arte era poco considerata e quindi c'erano tante figure femminili che si prendevano cura di musei e profondevano grande impegno, non solo nello studio, ma anche nella cura delle collezioni. In anni più vicini si è assistito a una discreta fortuna e forse, devo dire, aspirerei a vedere di nuovo più donne alla guida. Sta di fatto che nel campo dell'arte dell'Ottocento sono diverse le studiose che in un qualche modo si confrontano su questi temi. Ma se a raccontare l'arte in televisione ci sono molte voci maschili, mi correga se sbaglio, vicino Bertone, molte sono le donne invece che sono a capo di musei e questo credo che sia una cosa molto importante. Sì e no, per fortuna adesso di nuovo qualcuna, ma le donne sono numerose nei ruoli dei funzionari, ma poi le figure apicali in realtà non tutte. Quelle che sono però di solito si distinguono, ma lo dico più che altro perché c'è forse veramente un'attenzione a quello che è l'aspetto della divulgazione, a questo aspetto del nostro lavoro per cui studiare è naturalmente ciò che ci distingue, ma in qualunque campo dove ci sia una professione che ha a che vedere con la ricerca per riuscire a fare bene questo lavoro. Però non può assolutamente essere slegato dalla capacità di attirare un pubblico numeroso, di far capire quello che è il nostro lavoro e soprattutto di farlo apprezzare. In questo senso è davvero confortante vedere il pubblico che visita la mostra, che viene da una parte ad ammirare opere che sono all'apparenza di facili letture, ma dall'altra che possono rivelare, se osservate e studiate con maggiore profondità, anche tutta una serie di diverse riflessioni che le arricchiscono e ci permettono davvero di ritrovare dei precedenti importanti, molto importanti, non solo per capire buona parte dell'arte, pensiamo a Fontanesi e a quello che sarà poi la sua condanna tra i suoi contemporanei e invece il recupero meraviglioso che di lui verrà fatto, grazie proprio a Pellizza da Volpedo e a quella che sarà quella generazione di artisti. D'altra parte per gli impressionisti poi succederà qualcosa. E succederà qualcosa di molto molto importante, intanto noi ricordiamo la mostra alla Galleria d'Arte Moderna e Contovorana, Gantorino, la mostra dedicata ai Machiaioli, ringraziando Virginia Bertone per averci fatto ascoltare, vedere con parole sue le opere e non solo. Grazie ancora e buon lavoro a Virginia Bertone. Grazie a lei, vi aspettiamo. Grazie. Arrivederci.